Ciao, sono Michael Shea e sono in Italia per insegnare un corso sul sistema cardiovascolare. E fa parte di una serie di corsi che sono stati progettati per lavorare più profondamente con i nostri clienti. Il cliente contemporaneo affronta molte, molte sfide difficili. E lavorando con il sistema cardiovascolare siamo in grado di ottenere dei cambiamenti molto più profondi anche nel cervello. E uno dei modi in cui possiamo farlo è con i cambiamenti nel sistema nervoso autonomo. Possiamo abbassare i livelli di stress molto più rapidamente toccando le arterie e toccando il cuore. Ma ciò che è veramente importante è che comunque continuiamo a lavorare con la respirazione primaria e con la quiete. Perciò le abilità che usiamo nelle forme tradizionali di craniosacrale Usiamo le stesse abilità percettive con il sistema cardiovascolare. Specialmente le onde lunghe della marea lunga della respirazione primaria. E' una percezione molto profonda della quiete dinamica. Questo è un lavoro eccellente per lavorare con il vostro cliente e soprattutto da integrare per clienti con difficoltà più importanti. Sono molto grato ad Axi che mi ha invitato qui a insegnare questo corso. Grazie.